Il sindaco mantiene la delega ai lavori pubblici. Il nuovo vice sindaco è Daniele Calore. L'associazione Alessandria Sud scrive al sindaco Giorgio Abbonante dopo la serie di incidenti avvenuti al quartiere Cristio di Alessandria, una situazione che purtroppo sta degenerando e Palazzo Rosso deve intervenire urgentemente. E' Menico Rizzi, il nuovo rettore dell'Università del Piemonte Orientale, entrerà ufficialmente in carica il primo novembre e sarà al suo posto per sei anni. Rizzi succede a Giancarlo Avanzi. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Gli alessandrini designati oggi a Torino nella rosa degli assessori che per cinque anni lavoreranno al fianco del presidente della regione Alberto Cirio. Sono 11 gli assessori designati oggi a Torino dal presidente della regione Alberto Cirio che presso il grattacielo Piemonte ha presentato ufficialmente la squadra che nei prossimi cinque anni avrà il compito di sviluppare e far progredire il lavoro messo in campo nel quinquennio appena conclusosi. Il nuovo governo regionale è espressione della prova di compattezza che da sempre ha animato il centrodestra, ha affermato Cirio, che subito dopo ha comunicato di tenere per sé le deleghe di coordinamento politiche regionali, legalità, diritti, PNRR, fondi europei e rapporti con le istituzioni Unione Europea, rapporti con la conferenza Stato-Regioni, affari internazionali e comunicazione, grandi eventi, benessere animale. Poi l'elenco in ordine alfabetico dei nuovi assessori e delle rispettive deleghe, senza alcuna sorpresa rispetto ai rumors dei giorni scorsi. L'esponente di Fratelli d'Italia Elena Chiorino mantiene quelle che ha avuto nella legislatura uscente istruzione, merito e diritto allo studio universitario, lavoro, formazione professionale e welfare aziendale, rapporti con le partecipate. Elena Chiorino sarà anche vicepresidente del Consiglio regionale, la prima donna con tale incarico, ha sottolineato Cirio, in Regione Piemonte. Al capogruppo uscente di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni va l'assessorato a commercio, agricoltura e cibo, parchi, caccia e pesca, peste suina. Nelle sue mani vengono unite le deleghe del commercio e dell'agricoltura. A leghista Enrico Bussalino, presidente uscente della provincia di Alessandria ed ex sindaco di un piccolo comune della Valborbera, New Entry in Consiglio regionale, vanno le deleghe di autonomia, sicurezza e polizia locale, immigrazione, logistica e infrastrutture strategiche, enti locali. A lui è stata affidata una delega nuova, quella della logistica. Un altro volto nuovo è quello di Marina Chiarelli, esponente di Fratelli d'Italia ed ex vice sindaca di Novara. Avrà, oltre alle deleghe di cultura, sport e posto olimpico, pari opportunità e politiche giovanili e ancora quella del turismo. L'assessore uscente in quota Forza Italia, Marco Gabusi, mantiene le deleghe a trasporti e infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo, protezione civile e gestione dell'emergenza profughi. Massima attenzione, fra gli altri punti, al potenziamento dei trasporti. New Entry è poi Marco Gallo, che è stato sindaco del comune cuneese di Busca e che ben conosce la montagna. Espressione della lista civica Cirio Presidente, a lui diverse deleghe, come lo sviluppo e promozione della montagna, aree interne e gall, sistema neve, tutela delle aree protette. Giovane anagraficamente, ma da tempo impegnato in politica, è l'assessore uscente Matteo Marnati. L'esponente della Lega mantiene l'ambiente, energia e coordinamento del tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità. Nuova e sfidante per lui, che dovrà anche occuparsi dell'approvazione del piano qualità dell'aria, la delega sull'intelligenza artificiale. L'assessore uscente Maurizio Marrone, capo delegazione di Fratelli d'Italia, mantiene le precedenti deleghe, con qualche piccola aggiunta che eredita dall'assessore Caucino. Sono politiche sociali e dell'integrazione sociosanitaria, emigrazione e cooperazione decentrate internazionale, usure e beni confiscati, politiche della casa, delle famiglie e dei bambini. A Federico Riboldi, sindaco uscente di Casale Monferrato e vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Cirio ha assegnato l'assessorato alla sanità, inclusa l'edilizia sanitaria. È una delle deleghe più importanti, ha affermato il governatore piemontese, perché si ha a che fare con le persone, con la loro vita. L'assessore uscente di Forza Italia, Andrea Tronzano, darà continuità al governo Cirio e mantiene bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria. Chiude la rosa degli assessori Gianluca Vignale, della lista civica Cirio Presidente, capo di gabinetto uscente. Avrà il compito di far funzionare la macchina amministrativa con le delega personale, organizzazione e patrimonio, affari legali e contenzioso, rapporti col Consiglio regionale. Completano la squadra i due sottosegretari alla presidenza, Claudia Porchietto, di Forza Italia, e Alberto Preioni, Lega. E anche a Tortone è stata nominata la nuova giunta guidata dal riconfermato sindaco, leghista Federico Chiodi. Il primo cittadino mantiene le deleghe a lavori pubblici e patrimonio, promozione del territorio, sicurezza e polizia locale, ma anche viabilità, protezione civile e personale. Il nuovo sindaco è invece Daniele Calore, di Fratelli d'Italia. A lui vanno le corpose deleghe di bilancio e denti partecipate. A Fabio Morreale, espressione dell'omonima lista civica, restano pressoché tutte le deleghe dei cinque anni passati, ossia urbanistica, cultura, manifestazioni, turismo, frazioni. La più giovane in giunta è la leghista Anna Sgeiz, cui vanno le attività economiche, giovani e terza età, tutela animali e istruzioni. Giordana Tramarindi, Forza Italia, si occuperà di associazionismo, servizi sociali, sport e sanità. Ad oggi gli assessori a Tortona restano quattro. Il sindaco Federico Chiodi ha ribadito che la legge permette di nominarne un quinto, ma non c'è urgenza di inserirlo per lasciare il tempo ai partiti di trovare l'accordo sul nome giusto. A Giovanni Ferrari Cugnolo, di Forza Italia, dovrebbe andare alla presidenza del Consiglio. Domani sera, all'ex caserma Passalacqua, si riunirà intanto il neoconsiglio comunale. È un paese che stenta a credere quello che è successo. Tiglio, un piccolo agglomerato di case che si affaccia sul Monferrato Casalese, dove ieri sono stati scoperti i corpi, ormai senza vita, di una coppia svizzera che da vent'anni aveva deciso di vivere sulle colline del Monferrato. Chetti Porcetto. Ci sono coppie che vivono l'uno al respiro dell'altro e che senza, rimangono senza ossigeno. Ed è stata questa la tragica scelta che l'altro giorno hanno deciso di compiere i coniugi Rolfo e Alice Dipolt. Lui 73 anni e lei 63, trovati nel letto l'uno accanto all'altro, ormai privi di vita. Una scelta alla loro, dettata quasi sicuramente dalla disperazione e dalla malattia del 73enne e dalla consapevolezza della moglie di non poter vivere senza l'altra sua metà. La tragedia si è consumata a Ottiglio, località dell'Alessandrino, con un pogno di abitanti, 614 se ne contano, ma un luogo incantato nel Monferrato Casalese, di cui i coniugi di Ippold, svizzeri, si erano innamorati, tanto da acquistare vent'anni fa una casa quasi fattiscente, per rimetterla a posto anno dopo anno con lo stesso amore che avevano l'uno per l'altro. A far scoprire i due corpi è stata la sorella di Alice che vive a Zurigo. Da qualche giorno non ne aveva più notizie, preoccupata si è rivolta al sindaco Massimo Pasciuta che a sua volta ha chiamato carabinieri e vigili del fuoco. Da lì a poco la macabra scoperta. I coniugi di Ippold erano stesi nel letto, vicini, ad ucciderli il monossido di carbonio sprigionato da un bracere che a poco a poco ha tolto a loro tutto l'ossigeno. Gli inquirenti hanno anche addirittura trovato un asciugamano posizionato lungo la finestra per fare in modo che non entrasse nessuno spifaro che potesse mandare all'aria a loro piano. Sul comodino un biglietto con le ultime volontà, la ripartizione dei beni e il desiderio di essere cremati. Una notizia che ha sconquassato il lento e normale incedere del paese con in testa il primo cittadino, che non era solito vedere la coppia in giro ma che stimava. Lui, ha dichiarato ancora incredulo, lo ricordo per il sorriso disarmante che aveva. Erano molto riservati, come si conviene agli svizzeri, ma amavano questi panorami e la vita semplice di una comunità di certo non nota per fatti del genere. Sul profilo Facebook di Rolf Dippold, una foto che li ritrae sorridenti insieme, poi altre immagini, pochi per la verità, e l'inizio della sua iscrizione sui social con la notizia del matrimonio dei due, avvenuto l'11 marzo del 1978, quando entrambi si erano promessi amore finché morte non ci separi. Il presidente dell'Associazione Alessandria Sud, Alessandro Borgoglio, ha scritto al sindaco Giorgio Abbonante per sensibilizzare l'amministrazione comunale sui recenti eventi che hanno determinato diversi incidenti in alcune vie del quartiere Cristo, ed in particolare nell'incrocio tra Corso Carlo Marx, via Bonardi ed anche in strada Casal Cermelli. Sono infatti state moltissime le segnalazioni ricevute dai cittadini residenti nel quartiere che chiedono vengano attuati provvedimenti idonei a mitigare i rischi stradali, in particolare per pedoni e ciclisti. Una situazione che sta purtroppo degenerando, si legge nella mail inviata al sindaco, tenendo conto che già più di un anno fa erano stati effettuati sopralluoghi con gli amministratori comunali interessati a vario titolo, con l'ottenimento di promesse che le situazioni viabili, almeno quelle più gravose, sarebbero state gestite ed oggetto di una risoluzione, dice ancora la mail, duele constatare che ad oggi nulla è stato modificato e che anzi non c'è stato nessun riscontro operativo. Viene pertanto chiesto un intervento urgente da parte di Palazzo Rosso. Con 287 voti il professor Menico Rizzi è il nuovo rettore dell'Università del Piemonte Orientale. Entrerà ufficialmente in carica il 1 novembre, sarà la guida del lupo per i prossimi sei anni, fino dunque al 2030, succedendo a Giancarlo Avanzi. Prorettore sarà Gianluca Gaidano, professore ordinario di malattie del sangue al Dipartimento di Medicina Traslazionale del Lupo. Laureato in chimica nel 1990, Menico Rizzi ha preso il dottorato in biotecnologie molecolari e ha svolto attività di ricerca e formazione presso la European Molecular Biology Laboratori a D'Amburgo, Germania, e presso e all'Università, scusate, of York in Inghilterra. Tra i suoi innumerevoli incarichi, quello di ricercatore in biochimica in diverse università, professore di prima fascia in biologia molecolare e in biochimica, componente dell'Osservatorio Nazionale sulle professioni sanitarie del tavolo tecnico ministeriale per l'adozione dell'ordinamento didattico del corso di studio in osteopatia e di quello per la definizione di nuovi percorsi formativi per la professione di infermiere. Scusate, Rizzi è anche membro di commissioni di valutazione per la selezione di ricercatori universitari, professori associati e professori ordinari. Alessandria e Tortona aspettano lo storico passaggio del Tour de France che nella tarda mattinata di lunedì prossimo toccherà prima il comune di Tortona per poi passare nel capoluogo di provincia. Le due città sono ovviamente in festa e stanno predisponendo al meglio l'organizzazione logistica e la parte dedicata alla gestione degli eventi. Il servizio è di Alessandra Della Capo. L'attesa per lo storico passaggio del Tour de France in programma lunedì prossimo intorno alle 14 ad Alessandria sta creando il fermento delle grandi occasioni nel capoluogo di provincia pronto a tingersi di giallo e a respirare anche nelle serate precedenti l'evento del primo luglio atmosfere magiche. La macchina organizzativa è a lavoro per accogliere al meglio la colorata carovana di ciclisti che ovviamente sarà un bellissimo colpo d'occhio per gli spettatori ma richiederà un'importante gestione in termini di sicurezza e di viabilità. Accolto l'appello del sindaco Giorgio Abbonante in città arriveranno da tutto il Piemonte 219 agenti a supportare le forze dell'ordine già presenti oltre ai volontari della protezione civile e non solo. Tante serate in organizzazione in calendario due fra le tante quelle del 30 e dell'1 Emma Socolma e Jimmy Sachs Sì, ma io direi anche il 27 con la cena in via San Lorenzo la cena in giallo gli eventi che iniziano poi dal 28-29 insomma una partecipazione notevole diffusa quindi un impegno delle istituzioni pubbliche ma io dico soprattutto da parte di tantissimi cittadini i cittadini, i commercianti, i privati i operatori della cultura che hanno capito come noi forse, spero che il passaggio del tour è un passaggio meraviglioso perché è epocale e non sappiamo quando ripasserà questa meravigliosa corsa uno degli eventi sportivi più visti al mondo e insomma dobbiamo accoglierlo come deve essere accolto quindi con la città in festa siamo convinti che arriveranno anche molti turisti molte turiste e quindi insomma ci siamo attrezzati per non deludere le persone che verranno ad Alessandria a trovarci ma per non deludere anche i nostri cittadini e i nostri cittadini l'amministrazione comunale di concerto col gruppo Anteprima che si occupa della carrellata degli eventi collaterali al passaggio del Tour de France ha predisposto in particolare per le notti gialle del 30 giugno e del primo luglio prezzi calmierati all'ex caserma Valfré per la serata evento di domenica con Ema Soccolma eclettica DJ conduttrice radiofonica e televisiva che farà ballare e vibrare il pubblico al ritmo della musica più coinvolgente l'appuntamento vedrà anche la performance del musicista Massimo Torchio con Ave Quasare and We Ensemble e di Fabi DJ la sera del primo luglio poi sempre all'ex caserma Valfré e sempre a prezzi calmierati per agevolare la partecipazione della popolazione arriverà Jimmy Sax fenomeno mondiale francese del sassofono da mezzo miliardo di visualizzazioni l'artista sarà per la prima volta ad Alessandria per una nuit à musique e si esibirà fra sonorità funk ed elettroniche numeri in crescita per le presenze negli agriturismi italiani capofila tra le province del Piemonte Alessandria tanto c'è ancora da fare ad iniziare dal mettere in rete e in comunicazione le esperienze di tutti ma intanto i numeri sono più che lusignieri Margherita arriva a 31 anni ed insieme alla famiglia gestisce il suo agriturismo di Cellamonte una storia di amore e rispetto per la terra che arriva da lontano almeno da due generazioni quando già i nonni seguivano l'azienda vinicola alle nuove generazioni il passaggio a struttura di ricezione per agriturismo è stembrato quasi normale poter coltivare il proprio cibo poter trasmettere alle persone noi produciamo in modo biologico quindi tutta la filosofia di rispetto dell'ambiente e della natura che c'è dietro è una cosa che a noi piace molto come Margherita sono in tanti ad aver implementato le proprie attività agricole con la ricezione turistica ed i numeri in aumento sembrano dare loro ragione la conferma arriva anche dall'assemblea di agriturist che si è tenuta a Cellamonte la provincia di Alessandria infatti in materia di arrivi turistici ha avuto la migliore prestazione siamo a oltre 363.000 arrivi con 75.895 presenze se parliamo di percentuali rispetto agli anni precedenti siamo rispettivamente ad un più 13,6% e ad un più 12,1% di questi numeri oltre la metà dei turisti ha scelto le strutture alberghiere ma al secondo posto la scelta è caduta sugli agriturismi la provincia con il più alto numero di flussi turistici è stata Alessandria qual è il suo punto di forza? diciamo il territorio molto grande molto variegato la possibilità di spaziare diciamo dalla pianura le colline quindi poter veramente accontentare l'ospite più esigente da chi ha voglia di rilassarsi o chi ha voglia magari di farsi qualche sgambata o qualche pedalata in collina questa è la caratteristica di Alessandria che gli agriturismi già da alcuni anni hanno saputo trasformare in esperienza l'agriturist ospita nelle proprie mura nelle proprie aziende famiglie single bambini aziende quindi deve poter essere veramente a 360 gradi a disposizione degli ospiti sicuramente le collaborazioni con Alex Sale di consorzi attivi sul territorio sono stati una delle carte vincenti ma è ancora forte la necessità di fare rete tutti insieme mettiamo sul tavolo le nostre esperienze le esperienze che abbiamo fatto e cerchiamo di risolvere i problemi che magari uno ha già risolto e quell'altro invece deve ancora risolvere questo è uno dei nostri punti di forza agriturist il consiglio nazionale è fatto di imprenditori sparsi un po' su tutto il territorio nazionale che hanno vissuto le loro realtà indipendentemente da quelle che sono le leggi regionali che sono poi quelle che guidano gli agriturismi però la forza è proprio quella dell'impresa e quindi questo è il nostro obiettivo bene siamo in chiusura del nostro telegiornale subito dopo di noi le previsioni meteo e poi la pagina sportiva curata come sempre da Fabrizio Mattana questa sera si parlerà di box olimpica la nostra informazione torna domani alle 12.30 grazie buonasera grazie